Anche questo Natale, non importa dove tu sia e cosa stia facendo, nella speranza di aver contribuito a realizzare i tuoi desideri o di poterli concretizzare in futuro, auguriamo un Buon Natale a te e a tutti i nostri clienti che ci hanno scelto e che ci sceglieranno. Grazie da Immobil Global Service.